In un futuro, non credo troppo lontano, l'Italia e tutto il mondo saranno state invase da alieni immigrati clandestini e siccome fare la guerra contro gli invasori è troppo sbatta e richiederebbe un budget ed effetti speciali che vanno ben oltre le possibilità sia economiche che tecniche dell'asylum, alla fine si opta per un bell'esodo spaziale. Così un simpatico gruppetto di persone decide di lasciare il pianeta Terra per cercare di colonizzare un nuovo pianeta, ma durante il viaggio qualcosa va storto e non si capisce esattamente cosa, perché un secondo prima andava tutto bene e un secondo dopo vediamo la nave in fiamme che precipita. Comunque i nostri eroi, fra molte virgolette, miracolosamente sopravvissuti allo schianto di un'astronave le cui macerie sono 50 volte più piccole della nave quando era ancora integra, si ritrovano naufragati su un pianeta sconosciuto, dove infuria una battaglia fra degli alieni in modalità invisibile tipo Predator contro gli indigeni del posto, praticamente degli ex panettieri ricoperti da cima a piedi di farina. Nel nostro gruppetto quindi abbiamo un capo che ha l'espressività di una seppia, il capitano che però è stato ferito alla testa quindi non andrebbe preso sul serio tutto quello che dice, l'infermiera, un po' di gente inutile e un cyborg umanoide con la faccia da fesso. Sì, praticamente è Rovazzi senza quei suoi ridicoli baffetti. Il gruppetto viene quindi attaccato da dei fintissimi insetti giganti e poi scopre una specie di selvaggia che, colpo di scenona, sa parlare la loro lingua. Scaricato il mitra sugli insetti senza averne ammazzato nemmeno uno per difendersi dagli attacchi, ai nostri non resta altro che fabbricarsi delle rudimentali armi con dei ramoscelli che si riveleranno di certo utilissime, soprattutto contro i laser. Una di loro infatti viene colpita a morte e loro stanno lì a discutere se si ha il caso di seppellirla oppure no, anche se si vede chiaramente che sta respirando. A un certo punto trovano un'astronave abbandonata così da poter togliere il culo da quel pianeta, frase che ripetono circa una dozzina di volte ogni 30 minuti, anche se il mezzo non sembra in condizioni di poter volare. Successivamente il capo Frank e la selvaggia Lia trovano un simpatico e romantico laghetto con tanto di cascata e quindi aprono una parentesi amorosa fottendosene di tutto. E vabbè. Bisogna però decidere il da farsi, tipo cantare in coro tutti insieme stonati peggio di uno stormo di galline spennacchiate. Oppure ascoltare i traumi infantili della selvaggia Lia, di cui però non frega un cazzo a nessuno, detto chiaramente. Così ci si addentra in una grotta per trovare il popolo di Lia, quelli bianchi farina che l'hanno allontanata dalla tribù perché lei è verde, per cercare di convincerli ad unire le forze per sconfiggere questa razza aliena invadente invisibile. Invisibile in tutti i sensi, perché dopo 57 minuti di film ancora non se n'è visto uno. E trovata una loro navicella, la fanno esplodere a mitragliate. Ma che cazzo di astronave è? E ci si acquatta nell'erba per non essere visti. Anche se con quel tipo di erba, a quella distanza e con quel colore di pelle, per non vedere bisognerebbe essere proprio rincoglioniti, oltre che ciechi come una talpa. Insomma, sti alieni mimetici sono ciechi, rincoglioniti e fatti pure di merda. Perché vanno giù con un semplice colpo di rametto storto e spuntato. Perché mi rifiuto di chiamare quella cosa freccia, che non potrebbe essere chiamata freccia da nessuna parte e su nessun pianeta dell'universo sia conosciuto che sconosciuto. Allora si tirano fuori le armi pesanti, per modo di dire, perché sti fucili futuristici alieni emettono solo un po' di luce e uno sfrigolio zanzaresco tipo quello che si sente quando appunto una zanzara si spetascia sulle lampade apposite. Ad ogni modo la astronave viene riparata e così il gruppo finalmente riesce a togliere le chiappe da lì, per poi scoprire, grazie a rovazzi senza baffi, che il pianeta dove erano era proprio la Terra. Colpo di scenona! Originalissimo e mai visto prima, eh! Questo perché durante il sonno criogenico durato 100 anni non è stato trovato nessun pianeta abitabile. Solo che nel frattempo, e non ho capito come perché loro nominano la relatività, ma si guardano bene dallo spiegarcela, e quindi boh praticamente si scopre che in realtà il loro viaggio non è durato 100 anni, ma 325 mila anni. Perciò la selvaggia verde, altro non è che l'evoluzione della specie umana terrestre. E loro quindi atterrano sul monte Rushmore, decisi a riprendersi la Terra con le unghie e con i denti. Peccato che siano rimasti in tre. Fine! Madonna che pattume, che film inutile! E poi ricordo, in questo film si combattono alieni e non se ne vede mai, e dico mai uno, per tutta la durata del film. A me piacerebbe sapere chi è quello stronzo che nel retro di copertina ha scritto la frase, quando Avatar incontra Predator. Cioè questo film dovrebbe essere un misto fra Avatar e Predator, allora io posso tranquillamente spacciarmi per un mix fra Kurt Cobain e Brad Pitt. Comunque ringrazio il buon Michelangelo Macri che mi aveva regalato il DVD per il mio compleanno, ormai qualche mese fa, e niente, la mia lista desideri è sempre in descrizione. E al prossimo video! Ciao!